Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e volevo mostrarvi una mia prima parte della giornata in cui andrò a fare un allenamento, quindi ci siamo svegliati presto, abbiamo già fatto colazione e adesso vado a preparare la borsa e ci dirigiamo in gym. Prima di partire per l'allenamento mi preparo sempre tutti i miei integratori ho preparato il mio boraccione della MyProtein, molto comodo, tiene circa 2 litri di acqua dentro ci sono già le maltodestrine che mi danno veramente un gran supporto energetico durante l'allenamento in più alla fine uso sempre le proteine, le maltodestrine e gli amminoacidi essenziali come post-workout questa combo qua è veramente eccezionale soprattutto quando fai dei sforzi veramente intensi Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!